Chi siamo? Siamo industrie. Prima di tutto, siamo moda, design, turismo, editoria, eventi, arte. Siamo questo e molto di più. Siamo un'economia forte. 212.000 addetti che ogni giorno impiegano il loro tempo e le loro risorse nella crescita del nostro paese. Mettiamo insieme le nostre competenze, la nostra conoscenza e la progettualità con la manualità, l'artigianalità e la concretezza di chi fa del proprio lavoro una forma d'arte funzionale alle esigenze delle persone e del mondo che viviamo. Siamo ricerca, formazione e innovazione. Una comunità di imprese che si incontrano e si fondano insieme in una logica di open innovation per creare un sistema produttivo più forte, integrato e orientato al futuro. Siamo grandi aziende e forti, piccole e medie imprese che costituiscono lo scenario di un territorio che non si arrende e che si è sempre contraddistinto per le sue eccellenze, ma anche professionisti, consulenti e imprenditori che si uniscono e creano progetti innovativi. Insieme abbiamo creato sinergie, alleanze e reti di aggregazione a livello nazionale ed europeo. Cerchiamo insieme di individuare gli scenari futuri e di adoperarci per creare le basi di un ecosistema in grado di crescere e migliorare sempre più le nostre aziende e del nostro territorio. Luoghi, persone, competenze, passione e professionalità, unite in un unico cluster, il cluster Create. Siamo le industrie culturali e creative ed il futuro è qui, nel nostro cluster. Il cluster Create lo definirei come un ecosistema che si nutre continuamente di relazioni, di culture, e di creatività. Mi è subito piaciuta l'idea di far parte di una rete. Ho avuto modo di conoscere persone interessanti. È un bel percorso. Ho trovato molti valori in comune. Nella capacità di creare contatti, relazioni, sinergie. Di lavorare con la creatività, con la cultura italiana. È il frutto della capacità progettuale che ognuno riesce a mettere insieme. Non si fanno problemi ad ascoltare anche realtà piccole, giovani, sconosciute. Chiama raccolta e ci mette tutti attorno ai progetti, alle iniziative che ci sono. Ci hanno permesso appunto di condividere delle idee e dei futuri progetti. Credo che la nostra grande forza siano le donne e gli uomini che compongono le imprese che rappresentiamo. Per me sono delle persone magiche. Grazie.